Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Sono qua nel Nether e ho raccolto veramente 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 molta molta roba Infatti non ho manco più un piccone, li ho consumati tutti E quindi adesso tornerò a casa ragazzi, torniamo a casa perché in questo episodio cominciamo a costruire diciamo il resto della casa What? No ragazzi Cazzo Non è qualche cosa, non ho mai creato un portale io Perché c'è un portale qua? No scusate un secondo eh Allora Non è mica sparito, l'ho mica rotto di là Sarà successo qualche casino, aspettate un secondo Provo un attimino ad andare a vedere di là No l'altro c'è ancora, non è che... Ma che cavolo? Ma non capisco ragazzi Scusate, proviamo un attimino a ritratasportarci di là Ok Proviamo Vediamo un attimino, magari ci porta in un'altra parte ancora Ah, sempre qua che ci porta Oddio la gattina, ok Se io poi rientro Ma... ma che ca... ma perché? No, spiegami perché Ula, sono conosciute le cani da zucchero No, ragazzi Non ho capito veramente perché Sta... sta storia Ma... oddio Come facciamo adesso a sistemare a fare così? Bisogna riprogettare tutta la casa Ma no Se pure tardi non riuscirò a far uscire questo episodio per domani Uffa Che due scatole ragazzi Non è possibile, ci mancava ancora questa Oddio mio A vero ragazzi non ci posso fare niente Ok, è cominciato molto bene questo episodio Molto molto bene Allora ragazzi direi che qui ti faccio subito uno stacco E ci vediamo tra poco Ragazzi Niente da fare Cazzuola Dobbiamo rifare la casa Sì E ho già cominciato lo scavo purtroppo Sì la faremo qua Incollata Questa collinetta È l'unica idea che ho avuto fino adesso Perché in creativa Non ho progettato nulla di che Anzi vi faccio vedere L'unica cosa che mi ha venuto in mente Che mi ha consigliato Krypton Da veramente tantissimi episodi È una papera gigante E l'ho fatta Krypton ho fatto la papera gigante Non mi sono dimenticato Dite il tuo commento E gli ho fatto anche le occhiali in 3D Alla papera gigante Perché è una papera Con i controcazzi Comunque Questa papera gigante È l'unica cosa che ho avuto in mente Non mi aveva proprio nessuna idea in mente Ragazzi Niente da fare Quindi ho detto Ma sì Crea una papera gigante E Sarei forse tu lo screenshot Per oggi Comincio a fartelo lo screenshot Perché sei una grande papera Ok E Sì ragazzi È un bel problema Quindi cosa ho pensato Ho pensato di fare la casa Dentro alla montagna Eccola qua Ovvero Adesso ne faremo un'entrata qua Allora Cominceremo a fare l'entrata Spero di riuscire a fare l'entrata Perché tra l'altro È Anche Si è fatto piuttosto tardi Ragazzi Dubito che questo episodio Riuscirà a uscire Entro domani Quindi voi lo vedrete Un altro giorno Però io spero appunto Di riuscire a farvelo uscire Entro domani E E niente ragazzi Cosa ci posso fare Adesso Dobbiamo pensare un secondo Ovvero Qua comincerò a fare l'entrata E certo non sarà così Ho qua un piccone E una pala Che andrò subito Subito a incantare A incantare E E niente così Appunto Dovrò fare anche Già un bello stacco Perché Senza picconi E Pala adeguati Non penso che riusciva a lavorare E E niente ragazzi Quindi direi che faccio questo piccolo stacco E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci sono in modalità creativa Ho deciso che prima di dedicarci Alla costruzione della casa Voglio Parlare di tre commenti Colletto da Appunto tre utenti E Il primo è di Alex Papir Che voglio veramente ringraziare Perché ha avuto un'idea meravigliosa Vero E Vi ricordate il bug Della Bedrock Che si rompe Che abbiamo Che Ci hanno consigliato Appunto Negli scorsi episodi Ebbene Quest'utente ci consiglia Di usare le enderpearl Per riuscire a Superare Il livello Alto Non basso Della bedrock Che c'è nell'inferno Infatti nel nether Per chi non lo sa C'è questo Ovvero Un'area Che è Diciamo Basta scavare verso l'alto La trovate Che è Un'area dove c'è la bedrock Però è in alto Non è sopra E E si può costruire in quest'area E non so per quanti blocchi Ma penso che siano veramente molti Perché Guardate un po' Ma davvero Sono tantissimi blocchi Si può costruire come se fosse Un altro mondo Ma super piatto Quindi avremo un super piatto Di bedrock In un mondo normale Quindi Col bug del ender Percire appunto Questo utente Questo utente ci consiglia Di risalire Come ha fatto anche Itonslab E altri youtuber Però invece che Creare un portale Per tornare indietro Ci dice Fai una cosa Così Ovvero Utilizza il bug Che Ha trovato appunto Matteo Fire E Eccolo qua Adesso vi faccio vedere L'ho anche già provato Quindi funzionerà sicuramente Aspettate Bisogna provare un paio di volte Ok Infatti adesso Mi metterò a farmare Anche l'egno scuro Ok Arriveremo in questa situazione Guardate un po' Riusciamo a bucare La bedrock Et voilà Adesso qua Non si riesce ancora Beh aspettiamo Aspettiamo un attimo Ragazzi ma È questione veramente Di secondi Ok già forse qua Si può No nemmeno Beh qua già si potrebbe Riscendere Si Ok Aspettate giusto un secondo Vediamo Giriamo qua intorno Tanto pian piano Si bookerà tutta E beh comunque Questo utente Ci dice appunto Che Ah ecco qua Forse questo qua È un punto giusto Si infatti qua Possiamo riscendere Qualcuna scaletta Possiamo salire e scendere E arrivare Senza appunto L'utilizzo di un portale Secondario A questo Bellissimo posto Quindi grazie Ad Alex Papir E adesso Proviamo anche a fare Un Ossidiana E A Cerino Proviamo a fare un portale E vedere dove ci spawna Che sono Veramente Curioso Ok Veramente Veramente Curioso ragazzi Perché non ho mai fatto Una cosa di questo Genere E grazie ancora A questo utente Appunto Diciamo Ci tenevo a ringraziarlo Vediamo un pochettino No siamo sempre qua ragazzi No siamo sempre lì Quindi il portale Non servirebbe Nemmeno più di tanto E Niente Quindi Oggi No Diciamo che non è che serve Non serve più di tanto Servirebbe però Diciamo che Ha comunque avuto Un'ottima idea Che sicuramente Riporteremo nel nostro Let's play Quindi Passo Al secondo Commento Che ho letto Ok ragazzi Il secondo commento È di Salvatore Frascona Scusate E dice appunto Di utilizzare Le slab Di Acacia Perché stanno Veramente molto bene Adesso vi faccio anche vedere Adesso qua ho coperto Giusto per farvi Capire il meccanismo Però vedete che stanno Veramente Veramente molto bene Grazie all'utente Che appunto Me l'ha consigliato Si Logicamente Che scrive una rete di hop Però vi faccio vedere Che se io butto un pezzo Ossidana là Arriva qua Et voilà Vedete Grazie anche a questo utente Adesso voglio anche Vi dire una piccola cosa Non è che adesso Mi metterò ogni episodio Ringraziare gli utenti Che hanno fatto il commento Migliore E probabilmente Questa cosa Che sto facendo Col passare degli episodi Con l'aumentare delle iscritte Aumenterà Perché ci sono sempre più commenti E quindi Sempre più cose utili Però ragazzi Appunto Solo quando un commento Mi piace veramente Anche se è una cosa semplice Come questa La potrò Lo dirò Quindi non ditemi Nei commenti Oh parla del mio commento Perché non lo farò Sicuramente Anche se mi piace Se fate una cosa così Quindi Direi di passare All'ultimo commento E appunto E cominciamo Con la costruzione Della casa E riaccoci ragazzi E siamo qua Che stiamo farmando Degli scheletri E l'ultimo commento Che è appunto Mi ha Diciamo un po' sorpreso Perché l'ho letto esattamente Mentre lo stavo pensando io E' stato di Juve super Mi sembra Che ci consiglia Di incantare una spada E Proprio mentre lo pensavo Ho letto il commento Quindi Ho voluto giusto dirlo Così fa anche piacere A chi ci segue Logicamente Anche voi potete mettere Il vostro commento E così sperare Quando le avrò incantate tutte Vi farò vedere Cosa è uscito E vi metterò Al lavoro Della casa Ok ragazzi Eccoci Ho fatto un bel po' Di lavoro Off camera Vi faccio vedere Allora praticamente Ho farmato veramente Moltissimo esperienze Guardate qua quanta roba Mamma mia Ho praticamente Ho tutte le armature Praticamente si Ne ho Fatte veramente tantissime Ho incantato Tutto tranne una spada Che la incanterò più avanti Perché non ho più tempo E Mi sono uscito appunto Questa spada qua Che fa abbastanza schifo Ma va bene Questa palla Che mi serviva Perché ha tocco di velluto Quindi avrò la terra verde E Questo piccone Che è perfetto per lavorare Direi che E piglio Ancora Un piccone col sill touch Se ce l'ho Ma io non ce l'ho Quindi utilizzerò direttamente Quello con fortuna Perché? Perché col folce del carbone Mi dispiace lasciarlo lì Toh Poi ci sono degli altri pantaloni Ovviamente Pure incantati Tanto per cambiare E Niente ragazzi Vi faccio vedere Anche allora Questo Lo si può unire Ok Quindi facciamo così Ok Sto cercando di tenere Tutto più possibile In ordine Ma È più difficile Di quanto io creda Ok Sì questi qua Si possono unire Anche questi qui Quindi lo uniamoli Opla E Opla Ah Quasi pieno Ok E Niente appunto Vi faccio vedere Qua sotto Quanta Cavolo di roba Abbiamo Farmato Guardate qua Quante frecce Scandaloso Guardate qua Quante ossa Ok Belle armature Avete già viste Guardate qua Quanti archi Incantati Mamma mia E beh qua Gli archi normali Ok Quindi ecco Adesso vado a dormire E comincio I lavori della casa Purtroppo però ragazzi Questo episodio È giunto al termine Perché Come al solito Ho pochissimo tempo Per registrare Quindi Per oggi Non posso fare nient'altro Altrimenti il video Non riuscirà a uscire Per domani E Anzi Non garantisco comunque Che usciva per domani Quindi Devo svegliarmi E muovermi Là c'è un creeper Lo devo tenere d'occhio Anzi lo uccido subito Ok Sì però Magari se riesco A prendere la spada Ok Vai Muori Ok Perfetto Allora vi faccio vedere Giusto giusto Dove costruirò la casa E come funzionano L'incantesimo Che ho appena sbloccato Questo qua È il più importante Allora Io Prendo Ok È abbastanza forticina Questa palla Wow Ehm Cerchiamo di non fare dei danni Ok Guardate un po' Le faccio così E la palla Mi droppa la terra E Diciamo Normale Come deve essere Con l'erba sopra Ecco Ok È leggermente Uber power Questa palla Sì Mi farmerò un bel po' Di questa erbetta Molto bene Molto molto bene Ho già 28 blocchi E servirà questa erbetta Sì perché voglio far tipo Un prato verde nel neder O una cosa del genere Comunque Questo qua è il piccone con fortuna Qua quindi Puglierò anche il carbone E comincerò a far l'entrata Per la casa Che Riprogetterò Cercherò di riprogettare Anzi Veramente Ho già qualcosina in mente E E niente ragazzi Comunque io ancora una volta Vi ringrazio a tutti Vi invito a lasciare un like Perché come sapete Youtube è stronzo Vi invito a commentare A iscrivervi al canale Se anche voi volete Continuare a seguire Questa serie E niente Se anche voi volete appunto Essere salutati Commentate Anche se volete Avere altre O volete dei consigli Non sapete qualcosa Chiedete pure E Insomma Chiedete per qualsiasi cosa Io ci sono Quindi ragazzi Io vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti